Raga, personalmente sono avvelenato perché a me queste partite mi fanno avvelenare cioè non puoi non segnare con 50 tiri, mi dispiace, non puoi non segnare, cioè non puoi non segnare dai Di Bala sinceramente a me mi è urta il sistema nervoso, Pellegrini non punta mai la porta, non puoi non segnare cioè Di Bala e Pellegrini non hanno capito che non può segnare sempre solo Lukaku cioè hanno rotto il cazzo, hanno rotto il cazzo ragazzi, hanno rotto il cazzo cioè poi gli altri hanno i loro problemi mentali, Zaleschi è disagiato, Spinazzola speriamo che vengano subito perché non può più stare nella Roma però non si può dai raga, non si può non mi cesta partire, mi dispiace, non si può perché poi alla fine l'ha giocata bene, ha giocato in un modo che la Roma non gioca mai, tutti diciamo con una pressione in avanti e non si può ragazzi, non si può, non ho neanche il cuore di andare a vedere le statistiche perché penso saranno, non lo so, ci saranno quattro XG, il portiere loro si perché ha fatto belle parate ma niente di eclodante, cioè Rubatrisi ha fatto il miracolo su De Keterare che è un'occasione così estemporanea e loro hanno segnalato un cross di merda e doveva finire la partita 4-1 raga, non va bene dai, non va bene raga cioè non va bene, non va bene proprio, non va bene, non va bene, non c'è niente di bello perché questa andava vinta non va bene, Aureliano ha sbagliato qualcosa, sì, non era farlo su Di Balla al primo tempo perché Di Balla si predispone per cascare dato che sa che non ce la farà mai a superare un difensore in velocità e se non ce la farà mai non puoi essere la spalla di Lukaku perché Lukaku ha necessità di mandare qualcuno in profondità ogni tanto e lui non lo può fare, non lo può fare, è un rifinitore, abbiamo due rifinitori sotto Lukaku, allora se Lukaku le fa 4 gol la partita ha risolto il problema, altrimenti no, non va bene raga, non va bene, ha sbagliato la palla per Lukaku lì al limite dell'aria prima che loro segnassero l'1-0 perché quella è una palla sbagliata, non è una genialata, è una palla sbagliata perché stare bene l'aria sul sinistro o tiri e prova a segnare oppure dà la palla fatta bene e dà la palla sbagliata ha dato una palla sbagliata, si è mangiato 7-8 gol, non so manco, quanti, Spinazzola a un certo punto al secondo tempo 30 metri di vantaggio dà la palla sbagliata a Lukaku, è un coglione, è un coglione, è un coglione, è un coglione Spinazzola cioè non puoi dare quella palla sbagliata a Lukaku, dietro, arretrata o sul 2 contro 1, cioè tu gli devi dare una palla tale per cui lui la deve passare in porta sei un deficiente, no? Dai, fanno lotto il cazzo ragazzi, non va bene, dai, non va bene questa partita così, non va bene vi giuro tu Dio, questa partita mi manda nei matti, guarda, cioè preferisco, vi giuro, vedere Roma-Jume, preferisco vedere Roma-Jume che vedere questa partita qua, tutte queste cose, oddio di barra, madonna che sto, madonna che ho fatto i barri, madonna che ho fatto i barri madonna, che ha fatto, che cazzo ha fatto i barri, ha battuto i rigori bene, certo, dopo 8 anni di Juve, i rigori bene e i batti in forza ma non va bene, non va bene, perché a calcio se vince segnando, non se vince con queste cose del cazzo di merda, di merda, di merda guardate, di merda, è stato meglio il Sharawi di tutti gli altri che stavano in campo, per dire, ha puntato l'uomo, ha capito dove deve puntare l'uomo e andare avanti A presto, anche se vince con queste cose del cazzo.